...dicevo a Veronica con la stessa intenzione... Intanto voglio ringraziare il sindaco Bonfanti, l'amministrazione comunale perché è stato molto celere questo grande lavoro che è stato fatto per Giuseppe per ricordarlo, perché sarà sempre un ricordo incancellabile. Poi volevo ringraziare anche giustamente a Giorgio Icchellini in primis Mimmo Criscito che hanno voluto salutare Giuseppe in questo giorno particolare e voglio ringraziare tutta Noto, ma non solo Noto ma anche Siracusa e insomma tutta l'Italia perché è stata vicino a noi, è stata vicino a Giuseppe quando ormai si sperava che ce la facesse e invece purtroppo è andata come è andata e però mi sono stati vicini sia a me che a mia moglie, a miei figli, a miei nipotini Comunque è un bel giorno, certo giocare qui allo stadio comunale Giuseppe Rizzo sarà un onore per tutti. Volevo ringraziare tanto il sindaco Bonfanti e tutta l'amministrazione comunale di Noto per quello che state facendo per Peppino, era un ragazzo davvero speciale che porterò sempre nel mio cuore. Vi faccio tanti auguri di Buon Natale e grazie di tutto di nuovo e state vicino alla famiglia per favore. Ciao! Ci tengo a precisare che questa titolazione e questa giornata non è un ricordo, è una memoria e ci tengo a sottolineare qual è la differenza fra ricordo e memoria perché il ricordo è quello che puntualizza un atto, un momento, una circostanza che ci ha visti in relazione con Giuseppe. La memoria è qualcosa di più profondo, la memoria è qualcosa di più interiore. Ciao a tutti, volevo fare questo video per fare un ringraziamento al sindaco Bonfanti per aver dedicato lo stadio a Giuseppe. Io con Giuseppe ho giocato tanti tanti anni e devo dire che era un ragazzo eccezionale, un ragazzo disponibile con tutti ed era davvero un ragazzo che sorrideva sempre, quindi è stata la scelta più giusta da fare. Giuseppe ci manca, ci mancherà e sto vicino alla famiglia, a tutti, vi mando un grosso abbraccio e spero davvero prima o poi di poter venire a visitare lo stadio. Vi mando un bacio grande. Ciao! Grazie Grazie Grazie